Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, in A1 rallentamenti tra Calenzano e il Viglio per la variante di Valico in direzione Bologna, un impianto distribuzione carburante chiuso nell'area di servizio di Badia Alpino in direzione Firenze per un guasto, sull'accordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Monte Rigioni e Siena in direzione Siena, sulla statale Trebis Tiberina scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra l'incrocio di Madonnuccia Poggiolino e quello di Pieve Santo Stefano Sud, la viabilità cittadina a Firenze per i lavori alla linea 2 della Trambia, da domani sarà chiuso l'attraversamento dell'area dell'incrocio tra via Guido Monaco e via Cittadella per i veicoli provenienti da Viale Fratelli Rosselli. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze, buon viaggio!